Buonasera a tutti, ben trovati al consueto appuntamento con l'informazione di Telenova con il nostro TGN che apriamo parlando della questione delle liste perché verrà effettuato giovedì il sorteggio della posizione, il posizionamento delle liste elettorali nelle schede presso la Corte d'Appello di Milano. Si attende appunto l'esito di alcune verifiche in corso in Cassazione, intanto quelle già effettuate di verifiche hanno portato alla conferma dell'esclusione di alcune liste tra le quali referendum in democrazia di Marco Cappato. Il servizio è di Alberto Carreras. Slitta giovedì il sorteggio per la collocazione dei simboli nelle schede elettorali per la Lombardia relativamente alle elezioni del 25 settembre. La Corte d'Appello di Milano ha deciso di attendere gli esiti delle verifiche sui cosiddetti apparentamenti che vengono effettuate dall'ufficio elettorale della Cassazione prima di procedere con i sorteggi che inizialmente erano previsti tra oggi e domani. In particolare giovedì mattina si terranno prima le estrazioni per le posizioni dei simboli delle liste nelle schede del Senato, poi quelle della Camera. Intanto la Cassazione ha confermato la bocciatura di alcune liste in Lombardia che avevano avanzato ricorso per vari motivi, in gran parte legati alla raccolta delle firme. Si tratta di referendum e democrazia di Marco Cappato, Forza Nuova, Giletta Arancioni, Movimento Animalista, Partito Comunista Italiano, Destre Unite e Alternativa per l'Italia, No Green Pass. Per tutti la Suprema Corte ha confermato le esclusioni. In osservazione altre due liste minori. Per quanto riguarda la lista di Cappato, i giudici hanno fatto sapere che a prescindere dalla questione delle firme digitali, queste ultime sarebbero state depositate fuori tempo massimo. Sentiamo il diretto interessato. Presenteremo ogni ricorso anche in sede europea. Spero che il Presidente del Consiglio Draghi voglia intervenire il Governo con un decreto. Tra l'altro ormai è passato un anno dalla promessa del Ministro Colau di una piattaforma di partecipazione pubblica, miliardi di euro spesi con il PNRR per tutto, tranne che per la democrazia. In Regione Lombardia invece tengono banco le dimissioni sia da assessore che da consigliere regionale di Riccardo Decorato che è candidato per le politiche del 25 settembre con Fratelli d'Italia. Al suo posto Fontana oggi ha annunciato che in giunta entrerà Romano Larussa. Il commento del capogruppo del Movimento 5 Stelle, Nicola Di Marco, è Tranchan. Sentiamolo. L'arrivo di Romano Larussa all'interno della giunta Fontana è solo il primo assaggio di quello che potrebbe succedere qualora il 25 settembre dovesse prevalere il centrodestra a livello nazionale. Si propongono sempre come nuovo, poi in realtà offrono personaggi come Schifani, Tremonti e oggi Romano Larussa. Di fatto è una restaurazione, un ritorno al berlusconismo oltre 15 anni fa con ricette che hanno dimostrato di essere fallimentari. Fallimentare come per noi è stata la gestione del governo Fontana e di fatti diversi assessori, tra cui Decorato, hanno deciso di candidarsi al Parlamento ed abbandonare la nave ormai alla deriva. Ancora politica perché torna dall'1 al 4 settembre la festa dell'unità di Milano. Ride the Change, il titolo scelto per l'edizione di quest'anno che si tiene appunto nello spazio Ride in Via Valenza, in Cirico 2, nei pressi di Porta Genova. Sarà il segretario nazionale Enrico Letta a tagliare il nastro giovedì alle 18.30, insieme alla segretaria metropolitana e responsabile nazionale dei volontari Silvia Roggiani e al segretario regionale Vinicio Peluffo. Venerdì alle 18.30 l'atteso contributo del sindaco di Milano Beppe Sala, che insieme al candidato Dem Carlo Coltarelli sarà protagonista del dibattito dal titolo Milano-Lombardia, la sfida per l'Italia. Il fine settimana ricco poi di incontri con tanti nomi importanti della politica milanese e non solo, si aprirà sabato alle 13 con l'appuntamento di formazione delle volontarie e dei volontari in vista del voto del 25 settembre. La cronaca sarebbe stato un giovane incontrato occasionalmente in un locale durante la notte a cercare di abusare della ragazza di 16 anni che stamattina a Milano, intorno alle 7.30, ha dato l'allarme a una pattuglia della volante nella centralissima Piazza Castello. La ragazza è stata sentita dagli agenti della questura dopo essere stata visitata alla clinica Mangiagalli nel capoluogo Lombardo. Secondo quanto si è saputo, la sedicenne è riuscita a divincolarsi e l'aggressore ha poi desistito alla violenza allontanandosi. La ragazza, quando è stata soccorsa dai poliziotti, era in stato confusionale e avrebbe a fatica ricostruito le ore precedenti, mentre gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza nella zona, anche per capire se i fatti siano caduti appunto in Piazza Castello, dove non è ancora chiaro quanto la giovane sia rimasta prima di riprendersi e dare l'allarme. In attesa che le autorità svolgano tutti gli accertamenti su questa vicenda gravissima, è inaccettabile che a due passi dal Duomo, così come nei quartieri lontani dal centro, un adolescente possa essere aggredita sessualmente senza colpo ferire. Lo afferma in una nota Gianluca Comazzi, consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia, in consiglio regionale. Mi auguro che di fronte all'evidenza dei fatti, l'assessore alla sicurezza rassegni le dimissioni per manifesta incapacità chiosa. Se le ricostruzioni fossero confermate, ci troveremmo di fronte a un fatto gravissimo, purtroppo ennesima conferma di quella allarme relativa alla sicurezza, che ormai da troppo tempo affligge in modo drammatico la città. Lo dichiara il deputato di Forza Italia Andrea Mandelli, candidato del centrodestra nel collegio uninominale alla Camera Milano Loreto. Il centrodestra è fermamente deciso a invertire questo trend, partendo da quei modelli virtuosi come il poliziotto e il carabiniere di quartiere, che in passato hanno dimostrato di offrire una tutela efficace ai cittadini, conclude. Ancora cronaca, sempre dello stesso tenore, purtroppo un 21enne è stato arrestato dalla squadra mobile di Milano con l'accusa di violenze sessuali su quattro donne tra i 19 e i 33 anni, che avrebbe commesso tra maggio e giugno scorso. Il giovane avrebbe applicato sempre lo stesso schema, le avrebbe seguite a bordo di un monopattino elettrico, mentre uscivano a volte dalle palestre delle zone centrali della città, e poi le avrebbe aggredite anche mentre parlavano al telefono, costringendole a subire atti sessuali. E poi sarebbe scappato, sempre alla guida dello stesso monopattino. L'ordinanza di arresti domiciliari è stata firmata dal GIP Roberto Crepaldi, su richiesta del PM Pasquale Adesso. A Buscate, invece, in via delle industrie, si è verificato un nuovo incidente sul lavoro presso una ditta che produce prefabbricati. Un operaio di 44 anni, assunto da una cooperativa che lavorava presso l'azienda in questione, è rimasto ferito alle gambe da una lastra di ferro della misura di 10 metri per 3 che si è sganciata da un macchinario mentre veniva spostata, precipitando sul malcapitato. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Legnano. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, i carabinieri per le indagini sull'incidente e ovviamente il 118. Ancora cronaca, ampia la pagina questa sera dedicata appunto alla nera. Tre tifosi del Monza e tre dell'Udinese sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di rissa aggravata a seguito degli scontri con lanci di cocci di bottiglie, sassi e altro al termine del match di Serie A Monza-Udinese di venerdì sera. Durante i tafferugli fuori dallo stadio è rimasto ferito un poliziotto. Secondo la ricostruzione della questura di Monza, intorno alle 21.40, finita la partita vinta dall'Udinese, una ventina di ultrasfriulani a bordo di quattro minivan si sono fermati in Viale Sicilia, nei pressi di Cascina Cantalupo, dove sono soliti ritrovarsi i tifosi del Monza, in quel momento circa una trentina. Tra le due tifoserie sono iniziati subito i tafferugli con lanci di pietre, cocci di bottiglia, aste di bandiere e cartelli stradali sradicati. A bloccarli sono intervenuti i poliziotti, uno dei quali è finito in ospedale con una prognosi di dieci giorni. Le indagini della Digos di Monza, in collaborazione con quella di Udine, hanno permesso di identificare sei tifosi coinvolti negli scontri che sono stati arrestati ieri in flagranza di reato di ferita. Un cadavere è stato trovato carbonizzato nel bagagliaio di un'auto data alle fiamme a Cologne, in provincia di Brescia. Secondo una prima indiscrezione, il corpo sarebbe quello di un uomo e aveva le mani legate. La vettura sarebbe intestata a uno straniero residente in un paese vicino. Le forze dell'ordine indagano per omicidio e stanno verificando la segnalazione di alcuni passanti che avrebbero visto delle persone mentre abbandonavano l'auto, una Range Rover, poi avvolta dalle fiamme. Cambiamo argomento. Il governo è impegnato su sollecitazione di tutti i partiti a intervenire per ridurre i costi delle bollette energetiche che hanno raggiunto livelli insostenibili per famiglie e imprese. Si annuncia un inverno complicato sul fronte dei consumi. L'Enea ha redatto un decalogo con alcuni consigli utili su come diminuire i consumi tra le pareti domestiche. Nuovi aiuti per le famiglie e le imprese. Le bollette hanno raggiunto livelli insostenibili. Adesso i partiti, anche quelli che hanno affossato il governo Draghi, chiedono all'esecutivo di intervenire per ammorbidire gli aumenti. Il gas in Europa ha oltrepassato i 320 euro per megawattora, una cifra assurda. Basta pensare che negli Stati Uniti è a 30 euro e in Cina e in Asia a 180 euro. Il governo si è impegnato per nuovi approvvigionamenti da paesi africani e per l'acquisto delle navi rigassificatori che dovranno convertire il gas liquido in gas utilizzabile sulla rete nazionale. Sarà un inverno difficile e gli italiani dovranno prepararsi a effettuare risparmi sui consumi. Secondo l'Enea, nelle abitazioni bisognerà non superare i 19 gradi, abbandonando i 20 gradi previsti dalla normativa. Si potrebbe poi ridurre di un'ora il riscaldamento quotidiano, cosa che a una famiglia fa risparmiare, unitamente all'abbassamento dei gradi, circa 145 euro all'anno. Un altro consiglio di Enea è quello di sostituire i vecchi climatizzatori con nuovi modelli ad alta efficienza, con consumi ridotti e possibilità di scaldare gli ambienti se necessario. Effettuare poi la doccia per non più di 5 minuti. Questo permette un risparmio del 30% sul consumo del gas necessario a scaldare l'acqua. 3 gradi in meno di temperatura equivalgono a un altro 9% di risparmio. Abbassare poi la fiamma del gas quando l'acqua è in ebollizione permette un altro risparmio del 25%, diminuire il numero dei lavaggi settimanali con la lavatrice e la lavastoviglie. Infine sostituire le vecchie lampadine con quelle nuove a LED e non lasciare apparecchi in stand-by che, anche se di poco, continuano a incrementare il consumo generale. Cambiamo argomento, torniamo in Regione Lombardia. Lo facciamo perché oggi il Vice Presidente e Assessore al Welfare Letizia Moratti ha parlato dell'eventualità di dover ricominciare a mettere in campo un piano vaccinale più cospicuo nel caso in cui il Covid dovesse, dopo le vacanze, rifarsi vivo con numeri ben diversi da quelli anche odierni, li vedremo dopo, che sono assolutamente sotto controllo. Sentiamo cosa ha detto il Vice Presidente di Regione Lombardia. È un piano che è stato elaborato interamente dalla DG Welfare e è un piano che prevede due scenari, lo conoscete perché l'abbiamo presentato a luglio, quindi prevede due scenari rispetto a un possibile incremento di possibili contagi, quindi necessità di aumentare le vaccinazioni. Abbiamo una possibilità di arrivare o a 32.000, o a 64.000, 65.000 vaccinazioni al giorno, siamo assolutamente pronti e quindi stiamo lavorando, sperando di non dover arrivare né a 35.000 né a tanto meno a 65.000. Questo, quello che ha detto oggi Letizia Moratti, questi invece, dicevamo, i dati piuttosto confortanti, direi, della pandemia in Regione Lombardia. Eccoli qua. In terapia intensiva sono sempre solo 21 i letti occupati, esattamente come l'ultimo rilevamento di venerdì scorso. Nei vari reparti diminuiscono i letti destinati a pazienti che sono Covid positivi, quindi anche il tasso di positività è in calo di quasi due punti rispetto a venerdì scorso e come vedete nell'incremento casi per provincia sono soltanto tre, tra cui ovviamente Milano, non ci sono dubbi a farla da padrone, sono solo tre le province lombarde che vanno sopra i 100 casi, le altre sono Brescia e Monza e Brianza. Come vedete addirittura ci sono province in cui i numeri sono davvero minimi, lo avete visto, addirittura sotto le 20 unità. Quindi per adesso tutto questo allarme e questo ricorso al piano presentato a luglio in Regione Lombardia non è qualcosa su cui si sta lavorando e di necessario con questi dati, però ovviamente la stessa Monati ha voluto sottolineare come si sia pronti nell'eventualità dovesse succedere qualcosa e dovessero cambiare questi scenari. Dal primo settembre invece ci sono nuove norme per gli studenti per accedere agli istituti scolastici, stoppa le mascherine, al distanziamento e si torna a fare ginnastica in palestra. Dal Ministero però raccomandano che comunque in casi particolari le mascherine vengano utilizzate quando necessario. Ormai manca una manciata di giorni al suono delle campanelle e alla riapertura delle scuole. Il 31 agosto scadono le norme anti-covid dal primo settembre, niente più obbligo di mascherine, niente più distanziamento, possibilità di banchi doppi e lezioni di educazione fisica in palestra. Successivamente si vedrà in base all'evoluzione della situazione del virus, ha affermato il Ministro della Salute Roberto Speranza, aggiungendo che riguardo le mascherine il mancato obbligo non comporta che passi il messaggio che la mascherina sia inutile. La mascherina si utilizza quando necessario. Il personale a rischio di sviluppare forme severe di covid continuerà a utilizzare le mascherine FFP2. Studenti e insegnanti positivi al tampone dovranno restare a casa e potranno far rientro in aula solo dopo l'esito negativo del test. Sarà consentita la permanenza a scuola a bambini e studenti con sintomi respiratori di lieve entità e in buone condizioni generali che non presentano febbre. Quindi gli studenti potranno frequentare in presenza indossando mascherine chirurgiche FFP2 fino a risoluzione dei sintomi e avendo cura dell'igiene delle mani. Per accedere ai locali scolastici non sono previsti controlli sullo stato di salute, come ad esempio la misurazione della temperatura. Se durante la permanenza a scuola il personale scolastico o un alunno presentano sintomi indicativi di infezione il soggetto viene ospitato nella stanza appositamente predisposta e nel caso dei minori devono essere avvisati i genitori. Gli alunni positivi non potranno però utilizzare la didattica a distanza non prevista in questo nuovo anno scolastico. Per gli alunni fragili sono previste misure di tutela particolari. Saranno i genitori a indicare alla scuola quali misure di protezione dovranno essere adottate. Infine il Ministero raccomanda di tenere le finestre aperte quanto più possibile. Domani, come ormai da qualche anno, in Duomo alle ore 17.30 l'Arcivescovo presiederà una celebrazione eucaristica in memoria dei suoi predecessori che hanno guidato la Chiesa Ambrosiana negli ultimi decenni. In questo 2022 verranno ricordati alcuni anniversari molto significativi come i dieci anni dalla scomparsa del cardinale Carlo Maria Martini e i cinque dalla morte del cardinale Dionigi Tettamanzi. Anna Maria Braccini. Una solenne celebrazione eucaristica come avviene ormai da qualche anno in Duomo in onore del beato Alfredi il defonso Schuster nel giorno della sua memoria liturgica e in commemorazione degli arcivescovi Giovanni Colombo, Carlo Maria Martini e Dionigi Tettamanzi. Il loro successore, l'arcivescovo attuale, Monsignor Mario Delpini la presiederà domani, dalle 17.30, appunto in cattedrale. La messa sarà trasmessa in diretta su www.chiesadimilano.it e sul canale YouTube Chiesa di Milano. Un momento di preghiera, questo molto sentito dall'intera Chiesa Ambrosiana che verrà concelebrato da diversi stretti collaboratori degli arcivescovi di cui si fa memoria dai membri del Consiglio Episcopale Milanese del Capitolo Metropolitano. Il cardinale Alfredi il defonso Schuster nacque a Roma nel 1880 e fu monaco Benedettino, prestato a Milano dove divenne arcivescovo nel 1929 morì nel seminario di Venegono il 30 agosto 1954. Giovanni Colombo nacque invece a Caronno Pertusella in provincia di Varese e succedette sulla cattedra di Ambrogio Carlo al cardinale Montini, divenuto papa Paolo VI nel 1963 rimase alla guida della diocesi fino al 1979 morendo il 20 maggio 1992 Carlo Maria Martini, amatissimo, nacque a Torino nel 1927 Gesuita entrò a Milano solennemente il 10 febbraio del 1980 e lasciò la diocesi vent'anni fa l'11 luglio 2002 morì il 31 agosto del 2012 Dionigi Tettamanzi, forcivescovo metropolita di Milano dal 2002 e vi rimase fino al 28 giugno 2011 quando ne divenne amministratore apostolico morì il 5 agosto 2017 a Villa Sacro Cuore di Triugio dove si era ritirato questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale che si chiude qui dopo di noi le previsioni del tempo ovviamente poi le notizie sportive oggi giornata di vigilia per Milan, Inter e anche per il Monza il calci mercato è ancora aperto ci sono gli aggiornamenti sulle condizioni fisiche di Lukaku ma anche altri infortuni dall'altra parte del naviglio diciamo così quindi tanti gli argomenti che Michele Lanati prima enuncerà e poi approfondirà in Nova Stadio Sprinti insieme a voi quindi non perdete il calcio qui su Telenova Grazie a tutti